Il comune di Montecorici aderisce a spiagge e fondali puliti, campagna di prevenzione e lotta al Marine Litter di Lega Ambiente. Martedì 21 maggio alle ore 10, grazie ad un'azione congiunta tra l'ente Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Ialburni, i comuni di Montecorici, Castellabate e Di Pollica e soprattutto Lega Ambiente e Campania, si è deciso di dedicare una giornata alla pulizia delle ripe rosse. La società Cardine SRL metterà a disposizione il proprio personale qualificato, speleologi e rocciatori, per la pulizia del costone sotto la piazzola di Sosta, invaso e devastato purtroppo dai rifiuti. Parteciperanno inoltre all'iniziativa anche gli alunni di Montecorici e Pollica, dell'Istituto Comprensivo Statale Patroni. Un sito che ha un valore che va al di là del comune di Montecorici, è una zona di interesse turistico, ambientale, di grande valore internazionale. Qui è nato, dalla difesa delle ripe rosse, è nata l'idea di Parco Nazionale, quindi è un bene di tutti e tutti dobbiamo impegnarci a tenerlo pulito e a dargli la dignità che merita.